Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Caduta di alberi e allagamenti sono stati registrati in alcune zone del Friuli a seguito di un fronte di freddo alimentato da un moderato vento da sud sulla costa. Lo ha riferito la protezione civile regionale che ha diramato un'allerta meteo di color giallo per rischio idrogeologico. Le prime celle temporalesche si sono formate ieri sulle prealpi carniche e sulla pedemontana trevigiana e spostandosi successivamente verso est e sud-est hanno attraversato la regione portando forti raffiche di vento, piogge localmente intense e grandine. Sono stati segnalati alberi caduti nei comuni di San Leonardo, Attimis, San Pietro, Alnatisone, Taipana, Tarcento, Magnano in Riviera, Paziano di Pordenone, Cordovado, Lattisana e allagamenti in comune di Rivignano Teor. Le squadre comunali dei volontari di protezione civile hanno effettuato il monitoraggio del territorio nei comuni di Brugnera, Azzano, Decimo, Varmo e Nimis. I principali fiumi e torrenti sono comunque rimasti sotto il livello di guardia. Cambiamo argomento, torniamo a parlare ancora di coronavirus, l'eccellenza della sanità premiata con un altro incarico di consulenza per i magistrati di Bergamo che indagano sulla gestione dell'emergenza coronavirus nella provincia orobica. Daniele Donato, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova, è stato infatti scelto dalla procura di Bergamo come consulente. Lo ha confermato lo stesso Donato che si è presentato negli uffici giudiziari di Bergamo per accettare l'incarico. La nomina di Donato, che ha guidato la macchina dell'azienda ospedaliera Patavina nella peggiore emergenza mai avvenuta, segue quella del virologo Andrea Crisanti. Entrambi i consulenti scelti dai PM bergamaschi rappresentano quel modello Veneto che ha saputo arginare la pandemia meglio di altre regioni. Un riconoscimento che rende merito non solo al lavoro svolto con abnegazione dal personale di Santa Maria degli Angeli, ma anche a un pilastro della sanità del Friuli Venezia Giulia. Così il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, con delega da salute Riccardo Riccardi, ha definito il sigillo della città che il comune di Pordenone ha consegnato nelle mani del direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli occidentale, Joseph Polimeni. Nel corso di una cerimonia svoltasi in municipio, durante la seduta del Consiglio, alla presenza del Presidente dell'Assise Andrea Cabibbo, del Sindaco Alessandro Ciriani, e collegati in videoconferenza del Presidente dell'Ordine dei Medici, Don Toiatri di Pordenone, Guido Lucchini, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asfo, Lucio Bomben, nonché responsabile del Servizio Professionale per l'Assistenza Infermieristica e Ostetrica, della Destra Tagliamento, Luciano Clarizia, l'esponente dell'esecutivo regionale, ha ricordato l'importanza di un gesto simbolico, ricco però di significato per tutto il Friuli Venezia Giulia. Ed ora diamo la linea per qualche minuto alla redazione di Treviso. Artigiana di Montebelluno sconfigge l'Agenzia delle Entrate, non deve pagare 400 mila euro. Pratiche troppo lunghe, il giudice boccia la prescrizione ordinaria, bastano 5 anni per far decadere l'intimazione per tributi non riscossi. Schiamazzi a Follamento, bar, ristorante chiuse per 5 giorni, sabato notte le forze dell'ordine sono intervenute e perso presso il locale di Via Tre Venezie, nel quartiere di San Liberale. Il provvedimento, firmato dal sindaco Mario Conte, sarà valido fino al prossimo 5 luglio. Ceneri del defunto nel bidone dei fiori, il comune apre un'inchiesta, il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, ha incaricato il comandante della polizia locale di aprire un'inchiesta, visto che questo compito rientra tra quelli affidati ai vigili. Malattia incurabile, padre di due figli, muore a 55 anni, Francesco Dallalibera ha perso la vita nella giornata di sabato 27 giugno, viveva nella frazione di Bagnolo a San Pietro di Feletto, dove mercoledì 1 luglio ci saranno i funerali. Premio Locanda da Gerry al personale sanitario dell'emergenza coronavirus, tra le vincitrici Francesca Andretta, medico specializzando in malattie infettive, che ha operato nell'area Covid dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Il 4 luglio la premiazione. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Lo scoprimento e la benedizione del busto di Monsignor Antonio Santin sulla facciata della Cattedrale di San Giusto a Trieste è un momento di grande emozione per me e per tutta la città di Trieste. Santin rappresenta un simbolo per le nostre terre e celebrarne la memoria significa comprenderne il valore e tenerne alto il ricordo. Lo ha affermato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti ieri intervenendo alla cerimonia a memoria del grande vescovo Defensor Civitatis, la quale ha presenziato tra gli altri anche l'assessore regionale Fabio Scocci Marro. Nato nell'italianissima Rovigno in Istria nel 1895, Santin divenne vescovo delle diocesi unite di Trieste e Capodistria. Nel 1938, ricordato Roberti, visse alcune delle pagine più difficili della storia tra guerre e occupazione jugoslava, vivendo soprattutto l'esodo, il dramma delle foibe e il terrore della pulizia etnica. Fu faro per tanti istriani all'interno di una storia che ha riservato a Trieste nel XX secolo drammatiche vicende. Auspico che con questa comunicazione fatta ai comuni si chiuda ogni dubbio in merito a una disposizione di legge nazionale che interpreta male e che rischiava di favorire l'accesso al beneficio a chi non aveva requisiti. Così l'assessore regionale alle infrastrutture territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Bizzimenti, illustrando l'ultima circolare della direzione centrale che sostituendo la precedente dello scorso 19 giugno risponde a seguito delle nuove disposizioni nazionali alle richieste di chiarimento delle amministrazioni municipali relativamente ai bandi 2020 per il sostegno alle locazioni private nell'ambito dei requisiti per accedere a questa misura. Ha spiegato Pizzimenti, i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornati in Italia non possono utilizzare l'autocertificazione per attestare di non avere proprietà immobiliari all'estero. È stato presentato nel corso di un punto stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia, il piano degli interventi messi in campo dalla regione del Veneto per favorire una significativa ripartenza delle attività culturali da vivere in completa sicurezza da parte del pubblico e degli operatori del settore post-Covid-19. Quattro grandi istituzioni culturali del Veneto e mezzo milione di euro segnano la ripartenza di uno dei comparti che rappresenta il 5% del PIL regionale, il 6% del tessuto occupazionale e a pieno titolo rientra tra quelli che trainano l'economia veneta. Ha spiegato appunto il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Oggi sul Friuli Veneziano, Giulia, su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, possibile qualche breve locale pioggia pomeridiana, sulla costa Borino al mattino, Brezza nel pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di domani, su pianura e costa, cielo in genere sereno o poco nuvoloso, sui monti poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio, con probabili rovesci sparsi e qualche temporale, caldo affoso in pianura dal pomeriggio, Brezza sulla costa, in serata non escluso qualche temporale, sulla pedemontana. Passiamo al Veneto, su pianura al mattino, andando da sud a nord, cielo da sereno o poco nuvoloso, poco parzialmente nuvoloso dal pomeriggio, ovunque sereno o poco nuvoloso, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Per la giornata di domani, sulla pianura in prevalenza, cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio a tratti nuvoloso, con qualche pioggia più probabile, in prossimità dei rilievi, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni bassa sulla pianura per piogge locali, medio-bassa sulle prealpi, per piogge sparse e medio-alta, sulle dolomiti per piogge diffuse. Si tratterà di piovaschi e rovesci temporali, che si verificheranno nella seconda metà di giornata, più probabilmente nel pomeriggio. Temperature rispetto ad oggi saranno nei valori notturni, senza variazioni di rilievo, nei valori diurni, in aumento sulla pianura e in calo sui monti, in modo leggero, moderato. Previsioni a cura di ARPAFWG Meteo, di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione.